Al via questo bonus idrico rivolto ai cittadini dell'Epicene e del Fermano, ci puoi spiegare brevemente di cosa si tratta? È un'iniziativa che il Consiglio di amministrazione della CIP ha inteso inaugurare due anni fa e proseguire stanziando 140.000 euro che sono ricavi della CIP, quindi non presi da quello che noi ricaviamo dalle bollette ma da altro ricavo. Quindi questo bonus che va a favorire quelle famiglie, quei nuclei familiari un po' più disagiati economicamente parlando, parliamo di un reddito minore o uguale a 7.500 euro ISEE, queste famiglie otterranno uno sgravio facendo la domanda attraverso un modulo che può essere scaricato dal nostro sito o anche dai comuni nostri soci o dai patronati sindacati. Insomma, noi abbiamo dato massima diffusione a questa possibilità entro il 31 di novembre e otterranno sostanzialmente uno sgravio che va mediamente, per quello che abbiamo visto negli anni precedenti, circa il 40% dalla bolletta mediamente. Sono 60 euro per i primi due componenti del nucleo e 20 euro per ogni ulteriore componente del nucleo familiare fino al massimo della copertura della bolletta. Quante utenze più o meno pensate di coinvolgere? Abbiamo avuto 1.500 domande, circa 1.400 ammesse, quindi abbiamo erogato dei 140.000 previsti circa 130.000 euro. Questo è l'esito dell'anno scorso, ci auguriamo che quest'anno, magari con una maggiore pubblicità, anche altri che l'anno scorso non hanno fatto domanda possano farla, anche se per carità noi siamo ben contenti di vedere che forse è il limite della povertà, potarsi che non sia cresciuto. Per il resto, ripeto, noi abbiamo la massima disponibilità, attenzione c'è un numero verde che può fornire tutte le indicazioni del caso, questo numero penso lo conoscete tutti, 800, 21, 61, 72, attraverso il quale comunque è possibile avere supporto per la compilazione della domanda se ci sono dei due. Grazie a tutti!